Allora, io sono Justina, Justina Robban, della scuola Leonardo da Vinci di Via Gavur. Questa è la nostra squadra, il team Leonardo, con posta da Giada Di Nicola, Lorenzo Bisanti, Riccardo Rossi e Riccardo Cacciamani. E allora noi abbiamo proposto una nuova invenzione, che era appunto questo macchinario tecnologico, che attraverso un'informazione dei nomi, i cognomi e facendo un quiz, ti portava a livello successivo tutto molto buttato sul gioco, in modo che non ci sia lo stress dell'intervista, del colloquio per esempio, emergano le abilità, le soft skill appunto, e appunto non si basino sui pregiudizi, per esempio da come uno sifone magari si è un po' più timido e non riesce a parlare, appunto questi erano quiz molto semplici un po' sul gioco per semplificare questo colloquio, per conoscere un po' l'azienda e anche attraverso noi per esempio abbiamo fatto degli open day, delle giornate dedicate per esempio sarebbe un'idea, in cui praticamente questi macchinari sarebbero pubblicizzati in modo che la gente appunto sia attirata a fare questo quiz, questo questionario che sarebbe un'ottima idea. Qual è secondo te il valore aggiunto che il vostro progetto potrebbe dare all'azienda Amurta? Il fatto che è una novità, il fatto che queste cose non si vedono spesso, perché di solito c'è il solito colloquio, quello tradizionale dove devi parlare magari di mettere in giacca e cravatta e stare molto stressato perché pensi chissà che cosa penseranno, mentre con questi quiz invece è molto più semplice anche per le persone timide o magari che hanno delle difficoltà durante i colloqui, quindi sì, questa...